Dopo l'apertura all'insegna della musica classica, dedicata alle più grandi ouverture di tutti i tempi, in una serata condotta da Massimo Giletti, la tredicesima edizione del Narnia Festival prosegue con eventi dedicati alla musica e alla danza all'insegna della contaminazione. La Kermess, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, ha ottenuto quest'anno la nona medaglia del Presidente della Repubblica, confermando la qualità artistica e culturale che sa esprimere. Un Narnia Festival è qualcosa che ho nel cuore, perché è nato tanto tempo fa, questa è la tredicesima edizione, ma io con Lorenzo e Cristiana ho un rapporto personale che va oltre la passione per la musica, per l'opera, perché ci unisce una cosa che si chiama passione, che è una rarità. Venire qua, in una piccola cittadina medievale, che racconta un po' l'Umbria, la storia di questa bellissima regione e la porta lontano attraverso spettacoli, incontri, dibattiti, ecco, credo sia un passaggio necessario per un paese che vuole migliorare, se no la cultura è qualcosa che rimane in una torre burna, in una torre d'avorio lontana, invece qui noi siamo tra la gente e portiamo le grandi musiche, le grandi opere della storia in giro per l'Italia, per il mondo.